fratelli e sorelle bianconere salve a tutti benvenuti in un nuovo video allora adesso sono tornato nella mia vecchia stanza non sono più a roma ragazzi ora sono sono in sicilia finalmente finalmente si torna la base detto questo parliamo di uno youtuber ragazzi parlerò di uno youtuber tanto per per chiarirci qualche problema allora parlerò di lino juventus allora caro lino juventus se mi stai guardando questo video visualizzami è una persona davvero una grande persona lino juventus è allegriano che conosco il suo gusto vi lascio qua sotto un video sotto il link in descrizione e andate subito a vedere lino juventus il suo canale anche un video allora per me lino juventus è una grande persona come ho ben detto io prima ha parlato bene di massimini di massimiliano allegri mi sono impappinato scusate e ha detto massimiliano allegri uguale a marcello dippi guarda questa domanda mi incuriosisce tanto alcuni tifosi dicono che è una minestra riscaldata sia ben chiaro questa questo ritorno di allegri penso che sarà un cambiamento societario da parte della della juventus della juventus una juve del futuro allora se avesse vinto una champions in queste due finali di massimiliano allegri era proprio quella lippi come di come dici tu caro lino juventus poi un altro video ha fatto lino juventus è come paratici out certo già fuori sarà paratici quando ritornerà massimiliano allegri forse anche nedved se non sia chiaro o agnelli andrà nelle ferrari ma vediamo a fine stagione cosa succederà e poi l'ottito che mazzata per l'ottito va per un anno intero squalificato io avrei preferito che ai punti di penalizzazione per l'aleazio perché alcuni giocatori hanno giocato in maniera con i positivi va poi l'ultimo l'ultimo video che ha caricato proprio ora era inter campione d'italia scusa ma i tifosi quello che dice lino juventus ma i tifosi dell'inter ma si sono bevuti il cervello devono spottere uno che ne ha meno dell'inter gli scudetti non uno che ne ha 38 come la juventus ma si prendono in giro da si prendono in giro da soli guarda mi viene da ridere hanno vinto lo scudetto del tampone guarda già che già che sono passati dallo scudetto del cartone a quello del tampone va che ho visto un sacco di rinvii un sacco di aiuti di aiutini ho visto quello che dice lui ovviamente certo è stata aiutata tanto quest'anno l'inter come ben sapete va beh ragazzi adesso non ho nient'altro da aggiungere io spero che il video di oggi vi sia piaciuto vi invito che lasciate subito like al video commentate qua sotto condividete anche il video se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno seguitemi sia su facebook e anche su instagram ci vediamo molto presto per i miei prossimi video caro lino juventus ti voglio sempre bene seguirò sempre i tuoi video sempre forza juve chi ti fa juve non perde mai come dice lui ciao belli